ciao ragazzi e bentornati a questo appuntamento per oggi pensavo di fare un episodio breve veloce dicendovi proprio solo due cose e invece me ne è successo un'altra di cui non posso non parlarvene poi ho incontrato un amico che mi ha detto ma falli pure più lunghi tanto a me piacciono li sto a guardare volentieri e quindi facciamoli più lunghi allora come prima cosa oggi ho visto che se siete di stradella avete una nuova opportunità ovvero Deliveroo perché per la prima volta è comparso un un venditore diciamo un ristoratore disponibile per la consegna che è mcdonald non l'avevo ancora visto ne ho parlato qualche giorno fa con degli amici un'amica che fa la ristoratrice e non c'era ancora niente oggi è la prima volta in cui vedo qualcosa e andiamo subito a vedere come funziona allora ad esempio io apro il mio unico ristoratore che c'è in questo momento scelgo l'orario di consegna io non l'ho mai fatto è la prima volta che lo faccio lo faccio qui insieme a voi facciamo 19 45 20 e 15 dovrei essere a casa per quell'ora quindi big testy bacon ok aggiungiamo al carrello poi gli mettiamo ancora 4 euro 60 per avere la consegna gratuita che gli metto sai chicken mac nuggets salsa barbecue siamo 9 90 aggiungi 10 centesimi per avere la consegna gratuita maladies milkshake alla fragola ottimo ora è la consegna gratuita quindi cosa vuol dire che panino chicken mac nuggets milkshake alla fragola consegna gratuita promo code non ne ho e va il check out non voglio ricevere offerte commerciali aggiungi un nuovo indirizzo istruzioni per il rider nessuno salva indirizzo perfetto pagamento con google pay ma si compra con google pay pagamento in corso ok è arrivato il messaggio è arrivato messaggio dalla banca mi dice perfetto il tuo ordine programmato benissimo praticamente mi ha costato solo 20 centesimi di spese di servizio 11 10 10 sì perfetto ottimo molto bene e questo perché perché stasera avrò pochissimo tempo perché arriverò a casa dal lavoro appunto verso le otto meno quarto e alle otto e mezza ci sarà una serata d'autore col circolo fotografico con francesco gola paesaggista bravissimo specializzato nei tempi lunghi lui è molto molto preparatore nelle cose che è una cosa che mi piace tantissimo lui va molto colpo sicuro si studia tutto bene prima va e fa la foto che aveva in mente riuscendo ad ottenere dei risultati fantastici ha fatto delle foto bellissime alcune sono state anche pubblicate a livello internazionale anche da grandi aziende bene bene non perdetevi la serata stasera 20 e 30 circolo fotografico oltre po' vi lascio qua sotto tutti i contatti ma soprattutto oggi è il black friday cioè non è black friday però è black friday cioè praticamente quest'anno hanno iniziato a fare le offerte un giorno prima quindi ovviamente non mi sono fatto trovare impreparato perché come tutti gli anni come in tutte le occasioni vi ho preparato una tabella con le migliori offerte secondo me sono tantissime offerte c'è una marea di roba io vi seleziono quelle che secondo me sono le più interessanti vi porto esempi di cose che ho già cose che ho provato cose che vorrei avere che probabilmente comprerò anche e quindi andate sul sicuro dove trovate tutto questo qui sotto link in descrizione c'è il link a una tabella che adesso vi faccio vedere in diretta eccola qua allora innanzitutto qui ci sono un po di cose se non trovate quello che vi piace in questa tabella comunque cliccando sul primo sul primo link accedete direttamente ad amazon e potete comprarvi quello che volete se lo fate accedendo tramite quel link a me come vi avevo raccontato nell'altra puntata arriva una piccola percentuale non è una roba in cui ci campo ma comunque prendete un po come un segno di ringraziamento per tutti i video che vi faccio dai una sponsorizzazione a voi non costa niente non cambia niente non ve ne accorgete nemmeno cambia semplicemente che amazon sa che vi ho consigliato io queste cose quindi mi fa mi ringrazia come prima cosa vi ho messo anche un link a un'altra tabella qui avrete solo offerte fotografiche è una cosa che ho preparato per i ragazzi del corso di fotografia che sto tenendo insieme ad altri docenti circolo fotografico oltre po e da lì troverete un sacco di offerte oltretutto ce n'è una che è uno spettacolo ma adesso vi faccio vedere proprio alcune di queste quelle che secondo me sono le più interessanti allora innanzitutto se volete avvicinarvi alla domotica non c'è cosa migliore di questo ecodot è lo smart speaker di di amazon la versione più semplice costa 20 euro sono praticamente esauriti ed arriveranno in con calma se li volete ricevere prima prendete le le nuove versioni di costano un po di più a me esteticamente piacciono un po meno e queste vi arrivano subito c'è anche quella con con l'orologio che è più bellina diciamo dopo di che cosa posso farvi dov'è 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 che anche quest'ottima offerta ma il kindle il kindle qui ho messo quello base io ho la versione il kindle kindle paperwhite che è un po più bellino ma se volete avvicinarvi al mondo della lettura su ebook usate prendete pure questo spendete una stupidata e vedrete che è un altro mondo io non tocco più libri di carta da quando ho il kindle e non c'è paragone secondo me poi un po di offerte altre cose o surface pro 7 molto molto bello questo qui è praticamente un computer fatto a tablet ottime prestazioni interessantissimo poi le cuffie le queste qui sono le cuffie che uso da un anno se avete partecipato a qualche lezione che ho ottenuto col circolo fotografico o altre cose avrete visto che uso quasi sempre o queste o delle o delle pose dipende da cosa voglio di usare quella sera il telefono che ho preso mio padre assolutamente cioè se non volete avere problemi di batteria questo è una figata cioè vi dico subito che l'ha caricato due giorni e mezzo fa e a pranzo aveva il 71 per cento di batteria cioè utilizzo solo per chiamate è però è un telefono completo che fa tutto però avendo una batteria da 7000 milliampere vi dura una vita appunto lui che lo usa solo praticamente solo per chiamare o poco di più vi dura penso che gli faccia almeno una settimana dieci giorni poi tanti altri telefoni in offerta cose interessantissime un altro paio di sennheiser di cuffie questa volta con la cancellazione del rumore queste mi incuriosiscono parecchio e quelle bianche sono bellissime sono altre tutto bluetooth sono cuffie chiuse quelle che vi ho fatto vedere prima erano aperte queste vi dico mi tentano mi tentano veramente tanto poi 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 cosa abbiamo cosa abbiamo cosa abbiamo se avete problemi di ricezione del wifi prendete questo kit qua sono tre ripetitori mesh costano 84 euro 92 li collegate semplicemente al vostro router utilizzate la passate diciamo dalla loro rete non usate più il wifi del vostro router usate semplicemente il loro gli altri due le mettete in giro per casa e vedrete che avete una copertura assurda ovunque senza problemi vi consiglio un sistema mesh rispetto a un un ripetitore wifi perché con questo sistema fa tutto lui in automatico voi non dovete fare niente non ve ne accorgete nemmeno quando passate da uno all'altro con un ripetitore ne ho avuti un paio almeno vi assicuro anzi anche tre vi assicuro che quando passate da uno all'altro i problemi ci sono perché comunque è una rete diversa perché cade la linea da una parte deve riprenderla dall'altro prende bene uno male l'altro passa di qui passa di là siete un po in mezzo non ve la cavate più in questo modo invece è una rete unica e fa tutto lui veramente è una figata e poi 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 cos'altro posso farvi vedere la mia bilancia o la bilancia che uso tutti giù aia non è più in offerta questa la quella con la parte di che vi misura anche tutta la parte di massa grassa eccetera 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 non è più in offerta ma la parte semplicemente di bilancia normale quella smart si è ancora 15 euro ottimo prezzo vi lascio comunque il link nel caso vi piacesse quella la la 2000 di allora questa ve l'ho messa anche se non è in offerta perché se volete iniziare a fotografare questa macchina perfetta poi 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 la cantinetta bellissima cantinetta per i vini rumba rumba l'aspirapolvere quello il robot aspirapolvere io una versione vecchia di questo cioè vi assicuro spettacolo cioè vi cambia totalmente tutto vi dimenticate dell'esistenza dell'aspirapolvere cioè ho sentito lotte tra è meglio comprare un aspirapolvere da poco che ti dura di meno meglio comprare il folletto che è più figo ti dura una vita no 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 proprio è un altro mondo questo vi comprate il robottino fa tutto lui ve ne dimenticate basta aspirapolvere basta non dovete più starli a perdere del tempo a spazzare quello lì addirittura si comanda da telefono quando siete in giro fate partire tac arrivate a casa ci avete casa pulita ciao aspirapolveri poi netatmo netatmo qui vi metto il trio direttamente con stazione meteo ce l'ho da cinque anni spettacolo poi il termostato anche questo è l'acquisto più intelligente che abbia fatto per casa mia vi ho fatto un video proprio apposta riguardo lo ricomprerei al volo se dovesse avere problemi ma non ha mai dato un problema in questi cinque anni da quando ce l'ho e le le valvole termostatiche queste le ho solo da pochi mesi sono contentissimo questa è già una cosa un po più un po più da nerd ma vi assicuro che fa la differenza perché non scaldate più tutta la casa ma scaldate solo la stanza che vi serve io quando arrivo a casa in pausa pranzo mi ritrovo la cucina calda il bagno caldo la camera da letto la stanza dei bambini la sala è inutile averci le calde se non ci passo nemmeno poi 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 bella questa tastiera questa tastiera è veramente bella tant'è che usa esaurita si esaurita boh questa allora ve la devo togliere però c'è un'altra tastiera che vi consiglio che è questa che questo spero non sia esaurita no perché infatti la prenderò questo di sicuro tastierina piccola comoda bellina balla grande una custodia per il pc una bella borsa un hard disk da 12 tera usb 3 velocissimo cioè 12 tera non avrete più problemi di spazio per un bel po un paio di gruppi di continuità questo qui ce l'ho ce l'ho io vedete acquistato 16 luglio 2019 va benissimo se vi salta la corrente se sono sbalzi di tensione se c'è qualsiasi cosa lui vi tiene su tutto tutto quello che c'è collegato ovvio potete attaccare tutta la casa ma il computer piuttosto che io ho attaccato il nas ho attaccato il router ho attaccato un po di cose per cui fa comodo treppiedi questo treppiedi qua è da prendere cioè 30 euro è bellino è bellino con anche la sua borsa con anche il fatto che si può smontare un piede e usarlo da monopiede dov'è che è questo qua vedete bello è fatto fatto proprio bene mi è piaciuto 30 euro è un'ottima spesa e poi vabbè ci sono un sacco di cose tipo bex 16 euro cassa da 24 e via riempite il frigo e spa qui vi ho messo direttamente il link con tutti i modelli perché ce ne sono mille in offerta con degli ottimi prezzi e scegliete voi quello che volete qui ho un errore di battitura che devo correggere con mascherine disinfettanti anche qui fpp2 quelle certificate quelle non certificate che però vi costano molto meno mascherine chirurgiche piuttosto che tutto quello che volete e servono fatevi una scorta ne avremo ancora per un bel po è prodotti per la casa stesso discorso cioè qui c'è la cartigenica da 84 rotoli porca miseria un pacco più grande di quello che ho comprato io vi ho quasi voglia di prendere anche questo solo per vedermi arrivare a casa il paccone cioè l'altra volta otto chili e mezzo di cartigenica bellissimo bellissimo è stata un'emozione così come tante altre cose cioè veramente vi fate la scorta e per un po non ci pensate memory card perché se se siete appassionati di fotografia saprete che le memorie non sono mai abbastanza quindi vi lascio qui queste io vado se quasi sempre sulle sandisk però devo dire che ho un alexar di questa serie qua e va benissimo mai avuto problemi e poi un povero banchino lo sconto è piccolo ma è veramente figo questo è veramente un bel power bank come comunità perché è piccolo perché al quick charge perché al power delivery perché comunque 10.000 milliampere un po di roba ce la carichi e al suo indicatore che vi dice la carica o a tutto quello che serve non è ingombrante ma cioè ci potete caricare anche il computer ovvio 10.000 milliampere ora ne che ci carichi troppo però per il cellulare basta avanza qui dice due tre volte i vari cellulari per gli esempi ma sta assolutamente e quindi continuerò ad aggiungere altre cose a questo a questo file a questa tabella e voi tenetevelo aperto ogni tanto gli date un'occhiata così vedete se c'è qualcosa che vi serve vediamo se c'era qualcos'altro di interessante anche qua che sì c'era questo manfrotto qua senza la testa che era bellissimo questa testa questa testa ce l'ha un amico gliel'ho vista usare è una figata se cercate la precisione nei movimenti questa è bellissima perché avete sia le rotelline da girare per regolare micrometricamente sia la levetta da da tirare per i movimenti più più veloci quindi c'è tutto quello che che vi può servire io sinceramente di testa ne ho già tante per cui non lo compro solo per quello se non se mi servisse una al volo prenderei questa poi cos'altro c'è che vi posso far vedere con il cavalletto la che era bellissimo quest'altro tre piede un cavalletto quest'altro tre piede molto 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 interessante sia in versione così sia con anche la pinza da per lo smartphone altre cose che vi possono interessare in offerta questo kit kit studio kit studio se dovete iniziare se volete mettervi lì a provare qualcosa qui c'è praticamente tutto cioè vi manca il fotografo e la persona da fotografare poi c'è tutto per fortuna che non mettono i fotografi scatola allora coppia di luci costativi qui c'è un bel coupon del 15 per cento che cliccate qua e lo applicate e altre cose interessanti un kit di pulizia anche di pulizia che fa sempre bene pulizia esterna e non pulizia sensore va sempre bene tenere pulita la macchina bene non aggiungo altro perché veramente se no potrei andare avanti ore e ore e ore sicuramente aggiungerò altre cose in tabella il grosso probabilmente sarà domani ma già oggi come vedete c'è tantissima roba quindi dategli un'occhiata perché ci sono anche altre cose che non vi ho fatto vedere aggiungerò altre cose tutto molto interessante spendiamo un po di soldini cioè in realtà no cerchiamo di risparmiare però se proprio dobbiamo spendere insomma roba bella ce n'è e vi ricordo sempre che se accedete da questo da questo link arrivate direttamente su amazon ringraziandovi e per voi non cambia niente ciao ciao a domani buona serata buono shopping ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti